un buono per potersi comprare la pizza praticamente gratis in un locale del centro di pagani e questa la nuova iniziativa del parroco della chiesa del corpo di cristo di pagani don flaviano calenda da sempre pieno di idee in prima linea per aiutare i meno abbienti che arriva nella giornata mondiale dei poveri istituita da papo francesco con i poveri sempre in aumento anche nel nostro territorio il gesto di don flaviano è certamente una goccia nel deserto ma quantomeno si tratta di un segnale importante per far capire che si avvicini concretamente ai meno fortunati quelli che vivono un periodo della propria vita complicatissimo a dir poco nell'anno santo della misericordia a fine dell'anno santo il papa francesco ha indetto la giornata mondiale dei poveri e che si celebra nella penultima domenica il tempo ordinare sarebbe oggi 18 di novembre allora questa giornata dei poveri vuole essere deve essere celebrato tutto il mondo per dare un segno non è che soltanto oggi si aiutano i poveri oggi è un segno di quello che continuamente ogni comunità parrocchiale dovrebbe fare per i poveri la nostra parrocchia senso il corpo di cristo di pagani come tutti sanno da circa sei anni alla mensi di tommaso ma noi oggi spinti dalla cartes di oggi sana di fare un ulteriore gesto segno di questa giornata abbiamo pensato di dare a tutti gli ospiti del della mensi di tommaso un buono per una pizza margherita d'asporto presso una pizzeria del centro di pagani abbiamo interpretato cinque pizzerie daremo due euro a pizze quindi un contributo e ognuno che andrà a consumare lascerà questo buone che noi rilasciamo a ogni ospite della mensa e andremo poi a pagare ripeto queste due euro a pizza per coloro che la consumeranno ogni ogni comunità deve come dire essere un segno per i poveri ma un segno concreto una carità concreta non a parola perché soltanto se saremo come dire operativi in questo senso siamo credibili noi saremo giudicati alla nostra vita sulle opere di misericordia corporale e spirituale e la giornata mondiale dei poveri ci aiuta a non dimenticarci di queste realtà che tante persone hanno bisogno del di essere amate